20 arresti nel riminese eseguiti dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Mirror che ha fatto emergere un articolato sistema di riciclaggio del denaro ottenuto tramite estorsioni e rapine con intestazioni fittizi e prestanomi. Il denaro veniva investito nell'acquisto di locali notturni e di strutture ricettive della provincia di Rimini. Nel dettaglio sequestrati 38 tra conti correnti e libretti di risparmio, 18 società, 10 automobili di grossa cilindrata, un bar e due noti nightclub di Rimini e Riccione. È stata un'attività molto complessa, un'attività che è durata un anno, quasi un anno e mezzo, un'attività intensa, articolata e ha consentito appunto come diceva lei di procedere su quasi due binari paralleli. La prima ha consentito l'individuazione di questa forma forse nuova per la provincia di una clementà organizzata imprenditoriale e l'altra una forma un pochino più conosciuta, forse a noi anche forze dell'ordine, una criminalità organizzata tradizionale, quindi dedita al traffico di sostanze stupefacenti, a reati connessi alle armi, a riciclaggio e soprattutto alle estorsioni. Le accuse più gravi, organizzazione e partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, dedita alla realizzazione di più delitti di estorsione e rapina, riguardano otto soggetti, un romano di 57 anni, vertice dell'organizzazione e suo figlio di 32, un napoletano di 39 anni, un 35enne di Matera, un 40enne di Sassari, un 46enne di Brindisi, gli esecutori materiali delle estorsioni, delle aggressioni agli imprenditori che non si piegavano al volere del sodalizio criminoso, un 59enne di Ancona e un 32enne di Cesena, tutti residenti o domiciliati a Rimini e provincia, tranne il Cesenate e il Brindisino, residente a Sassofeltrio. L'avvocato del senatario invece di una misura interdittiva dalla libera professione, invece un 50enne originario di Campobasso, noto penalista esercitante nel foro di Rimini. Purtroppo l'indagine ha dimostrato il coinvolgimento anche di persone insospettabili, di professionisti ma che comunque ritengo essere assolutamente una minima parte del tessuto appunto della provincia che è un tessuto assolutamente sano, mi piace ed è doveroso da parte mia sottolinearlo.